salve a tutti ragazzi sono lex e siamo ancora qui nel canale dei carlidos con plugin che evolve della terza puntata non ricordo minimamente cosa dobbiamo fare come al solito la mia memoria è fantastica allora abbiamo fatto il virus ora c'è da fare il fungo perché abbiamo fatto il virus il fungo le spore e fungine faticano a percorrere lunghe distanze senza aiuti ecco questo già mi piace ma andiamo con questo funghetto che appunto le spore fungine sarà difficile portarlo distante seguente di nuovo tipo di genere è stato scoperto sblocca creazionista però mi sa che ce l'avevo già aumento di atp ottieni il dna bonus all'inizio ottieni dna facendo scoprire le bolle arancioni dna facendo scoprire le bolle rosse mi piace di più questo creazionista diminuisce la possibilità di mutazione della tua epidemia è più difficile da curare ma io metto che è più difficile da curare perché aiuta sempre acqua cita perché ho sempre problemi quelle cose direte un buono sincrimiari di umidi o rurali rurofilo noi e qua vediamo elica ionizzata per l'involuzione i costi dell'involuzione non aumentano questa mia nuova i costi dell'involuzione non aumentano perché aumentavano facciamo questo dai ok continua giochiamo a livello normale io l'avevo già finito allora in teoria siamo a pag 0 3 benvenuto a plugin vabbè ormai qua non sapete a memoria vi starete anche rompendo le scatole climi rurali 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 qua di sicuramente di sicuro non c'è niente di rurale povero rurale invece vedi marocco partiamo dal marocco questo bisognerà sicuramente inizia in marocco velocizzare la sua tipo di ma è un fungo le spore fungine fanno fatica a percorrere lunghe distanze dovrei voler l'abilità della spore fungine per contagiare nuovi paesi vabbè sì allora vediamo subito cosa come abilità vediamo mi lascia nell'area una scarica di spori per infettare un nuovo paese ok sì ho un vago ricordo di questa cosa che mi può essere utile però adesso lo lascio così e via proprio le bolle arancioni vorrei che dopo averla fatta la prima volta effettivamente non ci fosse più allora iniziamo per via terra inizia a diffondersi vabbè qui vedete sempre la solita surf vi faccio anche leggere i messaggi volete leggere le news euro sotto da tre mesi rispetto al dollaro non è che ci siamo giusto in bible calpestato dai fan hanno fatto bene vecchi pneumatici fondamentali per le merendine pneumatici si vabbè vedete che ci sono delle news stupide la mafia dell'area sta diventando troppo potente hanno spinto il cancelliere tedesco come una nuova indagia sul crimine organizzato questa è mia nuova i suoi comportamenti antisociali esperti preoccupati i bambini non leggono vabbè gli oceani più caldi porteranno più uregani vabbè per scoppiare di più sul paese io ando sempre sul mondo e vedo effetto a centinaia di persone ci sono quelle abilità lì praticamente quando lo usiamo il fungo farà una specie di esplosione che contaggerà i paesi vicini io il fungo mi ricordo che è difficile mass difficile infatti sono sicuro che farò una fatica ancestrale ma c'è stato allora intanto questo è l'ora che vediamo io punto sempre qua nel mezzo cioè magari vi rompe un po' ma vedere sempre la stessa cosa a me il gioco così non dispiace ho la mia tattica e seguo quella vediamo perché qua anche queste sarebbe utile prenderle più contagioso della tbc l'importante è che non prenda così che in realtà abbiamo infettato piuttosto bene sto iniziando a preoccuparmi del fatto che non esca dal paese perché vedi che lì ha compiuto la mona ha sviluppato il sintomo eczema vedete che qui ce l'ha con sto eczema mi sa che dovrò usare questa porca miseria si diffonde in Polonia vedi adesso non posso regredirla questa mi costerà 3 questa 3 posso neanche togliergliela però sono stato obbligato a utilizzarla subito ah guarda adesso che l'ho fatta esplodere giustamente allora passiamo a livello 2 qua bene bene sta iniziando a contagiarli altri paesi l'importante è cercare di come al solito non farla scatenare troppo presto anche se veramente si diffonde con una lentezza maestosa Polonia gli infiettati cioè vuol dire che io praticamente ho infiettato sull'inamarò sintomi e abilità no scusate un po' di mal di gola la sviluppato cisti bene io la cisti non la voglio quindi gliela tolgo e lo voglio per adesso e con quello veramente non posso fare nulla dai dai perché veramente sta facendo una fatica incredibile vediamo se questo qui quanto mi costa? 13 niente devo aspettare che arrivi a 13 dai 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 cioè il fungo è quello che mi piace un po' meno il virus invece mi piace ciocchi abbastanza bene 13 così almeno si evolve anche lì ottimo oh vedete in Polonia si sta sta andando abbastanza bene 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 l'Africa finalmente sta iniziando oh ho visto una nave rossa Zema glielo togliamo trasmissione devo tirare su quelle queste non le uso ancora qua vediamo una che aumenti l'infettività però aspetta ma meglio nel mondo abbiamo un po' di infettati nel mondo ancora non tanti ma siamo veramente lenti a crescere il motivo per cui vorremmo tirare su quelle abilità lì perché veramente posso già mettermi a utilizzarle adesso via mare o questa questa andiamogli almeno l'uno in tutto in modo che se ne freghi delle malattie sta iniziando a usare il menu dati mondo adesso infatti oh bene 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 questo è molto importante ora vediamo sintomi no trasmissioni questa mi costa 16 anche questa quindi me ne è mancato ovvia acqua perché è proprio quella più meglio bene 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 grande terremoto in italia quindi ci sono già dei morti 978 morti starnuti io gli tolgo anche quello starnuti vabbè questo no questo in realtà lo volevo quindi va bene questa adesso mi costa 17 ovviamente quindi no la malattia di genere ha scoperto una malattia quindi la malattia è stata scoperta bene bene ma ho visto una cosa vedete che bello buttarmi a mettere in stop tutto allora la gente va a superfiltri acqua grazie al guscio ma in realtà adesso mi interessa di più questo così nei climi freddi diventa una bomba dopo vorrei tirare su anche vedete come si diffonde lentamente rispetto a prima però c'è ad altri virus più che altro sintomi abbastanza grave potrei mettere questo però in realtà voglio mettergli un 2.27 più contagioso del raffreddore comune ok inizia a avere quello si sta diffondendo senza l'abilità ma lo stavo perdendo il problema è che vedete che si sta facendo fatica allora un attimo guardiamo in mondo se la cura è partita non lo sta ricercando nessuno quindi è ottima l'abilità ho compiuto una mozione polmonita ecco per esempio io polmonita non voglio che ce l'abbia in realtà gliela posso anche lasciare e abilità questa farebbe esplodere in un altro posto posso togliergliela no cioè una volta usata è usata basta non lo riveste neanche la orrenda presenza dell'acqua soggio sia in climi danni che in climi freddi ma mi costa veramente tanto mettiamo questo intanto Brasile inizia a lavorare ecco vedi questo non mi piace per me perché adesso vediamo nel mondo per esempio qua c'è tutta l'Australia vedi che sono sempre sti cazzo di isole però adesso che le isole lì le prendiamo visto visto che le prendiamo visto prendile prendile tutte che questa malattia è una bella sfigatina ancora ok salita in realtà Spagna guida la cura globale questo non mi piace quindi iniziamo a rallentare di un bel po' utilizziamo anche questo sintomi ok sintomi mutati io non li voglio problema stiamo infettando tutto qui come al solito Spagna chiude gli aeroporti vedi porca miseria sono rimaste la Groenlandia e quell'isoletta lì che ovviamente non mi fa arrivare ok quella adesso io uso aspetta usarla perché forse tra un po' riesco non ci sta andando niente vediamo se funziona sì perfetto malattie o comunque rallentiamo ancora di più questo deve evolversi per uccidere sì ma prima di evolversi per uccidere devo infettare il mondo mostra schemi di mutazione straordinari sintomi iniziamo a aumentare una metterità per questo prima morte in USA sono inizio di qualcosa tipo boh sai che pensavo di essere messo molto peggio credo che presenta sintomi mutati quindi andiamo a toglierli sì no perché può essere una cosa veloce tali inizia a crollare pure completa al 25% sto solo aspettando che ci sia tutto il mondo infettato però qua sta diventando problematica la cosa non ne mancano in questo mondo qui porca miseria 99% ancora 468 in salute ecco la cura lì in mondo non ci sono più persone sane boom e si inizia quindi vediamo se posso toglierli queste no non li posso togliere l'ho fatto bene allora che tanto aspetta no posso togliergli qualcosa dei chemicali mi ridarebbe 6 tanto va a me della trasmissione adesso non frega vabbè ma in realtà dovrei riuscire a farcela lo stesso ci sono due modi vabbè bla bla sta uccidendo lentamente ragazzi questo è un problema no no adesso sta iniziando vediamo se riesco a spreccare una di queste due pure al 50% però questa mi costa 16 dai non dico non dico le parole magiche ma ci siamo ci siamo abbastanza l'india ok crollare eccola lì il solito percorso che uccide qualsiasi cosa non ho più possibilità non dico vittoria facile però sono andato meglio di quanto pensavo in realtà molto meglio di quanto pensavo perché sono veramente molto avvantaggiato rispetto alla cura che comunque come avete visto alla fine è riuscito ad arrivare comunque a un 67% è ormai non va più avanti perché pittò tre punti vabbè tre sono andato benino beh direi che con questa puntata possiamo finirla qui sì sì che la finiamo qua magari proverò a prendere anche l'oro su questo anche se la vedo un po' difficile spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like se avete commenti su quanto non vi stia piacendo questa serie perché tanto lo so che non vi piace ma io la finirò perché mi sono imposto l'obiettivo di finirla perché ce l'ho da veramente un miliardo di anni in questo gioco e vorrei almeno a rapprendere l'argento su tutti i batteri i virus e piaghe e al prossimo video video